Ciao a tutti, in questo video vedremo la nuova versione Gen 2 di Runway per la generazione di video a partire da desto tramite l'intelligenza artificiale. Ultimamente stanno uscendo moltissimi servizi e software che utilizzano l'intelligenza artificiale generativa per creare contenuti. Runway era già uscita con una serie di tool per prendere un video e cambiargli completamente lo stile, questo tramite Gen 1. Poi ci sono altri tool utili per il lavoro come la rimozione dello sfondo eccetera, ma adesso è uscita la nuova versione Gen 2, ossia la possibilità di generare un video completamente da zero partendo da un prompt di testo, quindi da una descrizione. Andiamo a cliccare sulla nuova versione e vedete che abbiamo lo spazio per inserire il nostro prompt. La prima cosa da sapere è che noi abbiamo a disposizione nella versione gratuita dei crediti che corrispondono a dei secondi di elaborazione, quindi state attenti nella parte in alto a destra perché ci viene tenuto il conto di quanti secondi abbiamo a disposizione per la generazione dei nostri contenuti. Ci sono poi delle altre opzioni prima di cominciare come la possibilità di caricare un'immagine di riferimento che verrà usata per poi generare il video ed aiutare quindi a generare qualcosa che è simile a quello che vogliamo e poi la possibilità di definire la durata che in questa versione è momentaneamente di 4 secondi per video, oltre che delle opzioni diverse come la possibilità di interpolare, quindi di rendere più fluido possibile il video che è stato generato e questo perché in queste prime versioni video sono ancora diciamo un po' scattosi e solo per le versioni a pagamento la possibilità di aumentare la risoluzione e di rimuovere ovviamente il watermark. Nella parte bassa della schermata abbiamo poi una bacheca per prendere ispirazione. Proviamo quindi a descrivere qualcosa di realistico per ricominciare. Quello che gli andrò a chiedere, ovviamente deve essere scritto in inglese, è una ragazza dai capelli castani che indossa un abito rosso e che sta correndo su una spiaggia vicino al mare. Specifichiamo al tramonto e specifichiamo anche di aggiungere dei light leaks, quindi dei riflessi di luce per rendere la cosa più interessante. Clicchiamo su generate, aspettiamo che il software vada a calcolare, ci vorrà un po' di tempo e poi ci restituirà il nostro video. Già l'immagine di anteprima è molto simile a quello che avevo in testa ed è incredibile soprattutto cliccando play perché è pur vero che ancora abbiamo un playback non del tutto fluido, non abbiamo attivato la funzione tra l'altro per renderlo più fluido in questo momento, ma siamo molto più avanti dal punto di vista della qualità rispetto a versioni precedenti o altri software. Infatti vediamo che fra un frame e l'altro ci sono pochissimi problemi, l'immagine è molto stabile di solito quando vengono generati video attualmente tra un frame e l'altro ci possono essere delle differenze di luce e di colore che rendono il video per così dire poco uniforme con un effetto un po' lampeggiante. In questi quattro secondi abbiamo una consistenza dell'immagine veramente incredibile e comunque l'immagine che ha generata è assolutamente credibile e potrebbe essere stata ripresa da una videocamera tradizionale. Possiamo dare ovviamente per aiutare l'algoritmo a migliorare sempre di più un feedback, quindi in questo caso gli diamo 5 stelle. Per i prossimi prompt potrebbe essere interessante attivare l'interpolazione. Non lo faccio direttamente in questo perché altrimenti sprecherei dei crediti rimanenti. Possiamo ovviamente scaricare il video quindi andiamo a salvarlo sul nostro computer in modo da averlo a disposizione. La risoluzione del video in questa versione di prova è 768x448 quindi è una risoluzione bassa a 24 fotogrammi al secondo e come dicevamo 4 secondi totali di video. Andiamo adesso a chiedergli qualcosa di più quindi aggiungiamo qualche dettaglio alla nostra descrizione e vediamo come si comporta. Proviamo a inserire una descrizione in fondo che dice di aggiungere un cane che sta giocando con le onde del mare e vediamo se è in grado di fare questa modifica. La differenza qua è che abbiamo anche attivato l'interpolate quindi dovremmo avere un risultato leggermente diverso. Facciamo calcolare. Andiamo in play. Allora prima cosa vediamo che è molto più fluido. Abbiamo questo effetto anche un po' rallentato a dire la verità. Un po' slow motion però non c'è totalmente la parte quindi adesso andiamo a dargli un feedback dicendo che il prompt non corrisponde al risultato finale. Quindi anche dal lato descrizione bisogna poi imparare a capire bene cosa chiedergli e magari dargli anche una reference image. Però abbiamo visto come già il risultato si è migliorato in qualità. Tra l'altro state attenti perché per sbaglio io ho fatto partire un prompt premendo invio perché viene preso come non a capo ma come fai partire elaborazione. Quindi per sbaglio ho generato un prompt a partire da due lettere che ho scritto per sbaglio però ormai che l'abbiamo fatto guardiamo il risultato. Quindi ho scritto STI per sbaglio e quello che mi ha generato da zero quindi dandogli praticamente niente è questo semplice video questa immagine di un'automobile quindi l'ha presa probabilmente per la richiesta di un'automobile sportiva. Visto che ormai è stato creato andiamo a scaricarlo. Vediamo che comunque anche in questo caso l'immagine è davvero realistica e farei obiettivamente fatica a capire se è un'immagine reale o se è stata generata. A questo punto diamogli qualcosa di invece un po' più fantasioso quindi meno realistico con una descrizione anche abbastanza lunga. Quello che stiamo chiedendo è l'interno di un salotto tutto decorato a tema natale con il camino e l'albero di natale addobbato e gli chiediamo anche di inserire il pupazzo di una renna che ha il naso rosso e le corna arancioni e che indossa una sciarpa che sia felice e il tutto che sia con uno stile molto colorato e stile cartoon. Vediamo che cosa è andato a generare. Andiamo in play anche qua abbiamo un play molto fluido rispetto alla prima versione che abbiamo fatto. Andiamo a analizzare bene l'immagine diciamo che a livello generale anche qui è molto realistica quindi non ha preso proprio lo stile cartoon ma ha preso l'indicazione di fare una cosa molto colorata. C'è assolutamente il camino c'è assolutamente l'albero di natale anzi ce n'è più di uno a dir la verità. L'atmosfera è quella diciamo corretta. Per quanto riguarda e qui anche qui diamo comunque un feedback che non c'entra proprio al cento per cento con la nostra descrizione e ci scarichiamo anche il filmato. Per quanto riguarda invece il personaggio abbiamo effettivamente due pupazzi ok. Uno è più un orsetto vestito da babbo natale che altro mentre l'altro effettivamente è una renna un po' strana. Ha effettivamente un colore arancione alle corna forse ha un orecchio di troppo ma non ha assolutamente il naso rosso. Quindi diciamo che qualitativamente è molto elevato il risultato ma non match al cento per cento con quello che abbiamo visto. Tra l'altro notiamo anche che essendo a tema natalizzo ha aggiunto anche la neve anche se siamo in interno però può essere interessante. Mi fermerei qui perché poi vedremo in altri video anche le altre caratteristiche di a noi ma questa essendo la nuova uscita ed è comunque un argomento molto interessante soprattutto per chi fa video direi che riusciamo a intravedere quello che potrebbe diventare e farci dei ragionamenti su anche quello che questo può comportare a livello anche lavorativo. Per esempio anche se ora non è ancora perfetto ma stanno già uscendo dei lavori fatti con questa tecnologia sicuramente avrà un impatto su tutto quello che è l'industria diciamo dei stock footage quindi quelle aziende quei portali che danno a disposizione librerie di video e spesso e volentieri si fa fatica a trovare esattamente quello che si sta cercando mentre un sistema di questo tipo dovrà per forza essere integrato se queste piattaforme dovranno mantenersi diciamo utili per tutti e sempre diciamo attuali non solo perché possiamo generare da zero ma visto che queste piattaforme hanno già delle librerie di video può essere molto interessante il fatto di partire da un video che già esiste e creare delle varianti in modo da avvicinarsi molto di più a quello che ci serve quindi magari nella libreria ci sono già dei video reali girati ma non ci serve una piccola variante che possiamo andare a modificare con questo sistema quindi questo era una prima occhiata alla versione gen 2 di runaway che ci permette di creare un video partendo semplicemente da un testo tramite l'intelligenza artificiale fatemi sapere se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo come al solito al prossimo tutorial